Buongiorno amici, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi è una giornata super super speciale perché mio marito Giulo e mio cognato Stefano hanno deciso di fare una sorpresa a me e mia sorella. Adoro le sorprese ma l'attesa dal momento in cui so che quel giorno devi tenerti libera al giorno che poi effettivamente arriva è per me logorante e infatti ho cercato di capire un po' qualcosa, storcere qualche informazione a Giulo ma assolutamente non ci sono riuscita. E quindi niente, adesso tra pochissimo vengono a prenderci e andiamo direzione Milano, l'unica cosa che so ma non ho la più pallida idea di che cosa andremo a fare. Quindi continuate anche voi a vedere questo video per scoprire di che sorpresa si tratta. Se non foste ancora iscritti al mio canale mi raccomando iscrivetevi, lasciate un like, un commentino per dirmi se questa sorpresa poi vi piacerà e se vi va vi lascio anche il link giù in info box per seguirmi su Instagram. Ma quindi ci stanno facendo una sorpresa? Così pare, tu sai dove andiamo. Assolutamente no, tu? E voi non ci dite niente? Anch'io so dove andiamo. Qualcuno mente. Il finale tutti insieme, ci state? Sì. Per la prima volta abbiamo una voce bussente dalla loro, che di solito non si sentono, quindi sul finale vi aspetto tutti e dall'inizio chi vuole. Sì. 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 Grazie a tutti. 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 Nell'info box tutti i dettagli di dove siamo andati e dove era questo posto e tantissimi complimenti anche al musicista che è stato veramente top. Purtroppo non ho potuto filmare nulla perché sennò vi spoileravo troppo il suo spettacolo. E come sempre io vi mando un grosso bacio e un grosso abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!